Costantino? Sì, dimmi, Marisa. Ma visto che ci manca solo un concorrente a testa, che ne dici quando finirà tutta questa barahonda di fare una bella festa? Hai detto festa? Sì, Costantino. E allora ho il prodotto che fa per te. Cos'è? Trick Track. Vai a vedere. E fuochi d'artificio di Antonella Clerici. Trick Track. Ah, bello! E solo così fai un da voi scabotto. Trick Track. È scoppiettante. Sì, me lo regalo. Vai! Aspetta.